Amici 3B Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì che nel complesso sarà buona in tutta Italia. Sale la pressione atmosferica sull'Europa centro-meridionale, quindi condizioni in meteo davvero favorevoli. Anche per gite ed escursioni fuori porta perché vi anticipo anche nel weekend il tempo sarà bello. Andiamo a controllare la nuvolosità prevista sull'Italia, poco o nulla, qualche nuvolamento di tanto in tanto ma davvero cielo per lo più sereno o poco nuvoloso. Anche come precipitazione quindi situazione tranquilla non capita più nulla, si attenua anche l'instabilità nelle estreme regioni meridionali che per alcuni giorni ha causato acquazioni temporali sul versante ionico. Quindi in definitiva venerdì di bel tempo in tutta Italia, da nord a sud diciamo solo qualche nuvoletta di passaggio e guardate anche temperature molto miti. Nel pomeriggio valori ben oltre i 20 gradi. Con questo è tutto, per sapere nel dettaglio poi come andrà il weekend scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.